è partita anche la seconda batteria della categoria G1 seconda batteria perché ricordiamo che come tradizionalmente accade a Ronco di Gussago il gruppo sportivo Ronco, organizzatore della manifestazione decide di sdoppiare tutte le categorie indipendentemente dal numero di iscritti una scelta dettata anche dalla durezza del percorso e dalla discesa molto tecnica siamo al suono della campana anche in questa seconda batteria il gruppo praticamente non esiste più gli atleti arrivano sotto lo stiscione d'arrivo per l'ultima volta alla spicciolata staremo a vedere anche qui chi riuscirà ad avere la meglio sui diretti avversari e sul rettilineo finale si presenta tutto solo Pietro Gavazzi che vince davanti a Paolo Rosato e Lorenzo Gaffurri leggiamo la classifica quinto Nicola Corsetti della Freccia Rossa quarto Gabriele Di Atta della Mazzano terzo Lorenzo Gaffurri dell'Alzate Brianza seconda posizione per Paolo Rosato della Nuvolento e vincitore Pietro Gavazzi della Camignone grazie a tutti grazie a tutti